Buonasera a tutti, a tutti i partecipanti di questo webinar organizzato dalla ditta CIFO di San Giorgio di Piano Bologna in collaborazione con l'EDA agricole, con noi dell'EDA agricole. Io sono Giorgio Setti, uno dei giornalisti dell'EDA agricole. Un webinar sull'impiego dei biostimolanti in orticoltura. Come vedete abbiamo tutti la mascherina perché stiamo rispettando pedissequamente tutte le precauzioni anti-Covid, però siccome siamo abbastanza distanziati, ci è stato detto che è possibile togliersi la mascherina. Quindi ora ci toglieremo in diretta con un rito propiziatorio, ci toglieremo la mascherina. Accanto a me vedete subito accanto a me il professor Michele Sellitto dell'Università di Timisoara, ma anche un autore dell'EDA agricole, ha scritto diversi libri e ne sta scrivendo dei nuovi. Dopo di lui abbiamo due tecnici della ditta CIFO, ossia Mirco D'Angelo e Massimo Andreotti. L'ultimo seduto è un tecnico responsabile di orticoltura della comunità di San Patrignano, che ci proporrà le proprie esperienze in materia di impiego dei biostimolanti in orticoltura. Avremo anche due collegamenti con una realtà orticola molto importante della provincia di Bergamo, che coltiva quarta gamma bio con un giusto uso dei biostimolanti. Si chiama l'azienda tenuta i laghetti, ma inizieranno i lavori con un altro intervento del professor Antonio Ferrante dell'Università degli Studi di Milano. Lui pure è autore d'agricola e membro del nuovo comitato tecnico-scientifico dell'EDA agricole. E quindi parleremo dell'impiego di questi, diciamo, tra virgolette misteriosi, ecco, mezzi tecnici, misteriosi ma nuovi, ecco, che stanno dando ottime performance culturali, ma ci diranno tutti i nostri esperti. Prima di cominciare, saluti iniziali da parte del padrone di casa, ossia Pierluigi Picciani, direttore marketing commerciale della stessa CIFO. Prego, dottor Picciani. Grazie, io ringrazio tutti per l'organizzazione di questo evento. Allora, la CIFO è un'azienda storica e innovativa nel settore dei biostimolanti e è particolarmente lieta di dedicare un evento come questo al settore dell'orticoltura. Da sempre, le esigenze espresse in questo comparto si coniugano intimamente con le caratteristiche dei biostimolanti e con la capacità di rispondere alle richieste più rilevanti degli operatori che lavorano in questo settore. L'azienda, attraverso questo appuntamento, vuole affermare ancora più di essere a fianco degli operatori e di essere un partner ideale per chi vuole ottenere successo nell'orticoltura professionale. Il futuro, per noi e per i nostri partner, sarà ricco di innovazione e di soluzioni che ci permetteranno di qualificare l'offerta dell'orticoltura italiana, scusatemi, attraverso i più alti standard qualitativi e produttivi. La CIFO investe e punta fortemente sulla ricerca e sviluppo e con i suoi tecnici commerciali presenti su tutto il territorio italiano, è in grado di fornire le migliori soluzioni utili ad affrontare le nuove sfide del futuro. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie a Pierluigi Picciani, direttore marketing e commerciale della CIFO SRL di San Giorgio di Piano, provincia di Bologna. Ora parlerà un super esperto, un professore dell'Università degli Studi di Milano, il professor Antonio Ferrante, proietterà anche degli slide, io le ho visionate prima di cominciare, è una relazione ricchissima, documentatissima, ma purtroppo dobbiamo rimanere in una certa tempistica, ho detto al professore che purtroppo non abbiamo più di 15 minuti per il suo intervento. Questo non vuol dire che i suoi tanti contenuti andranno persi, anzi verranno pubblicati sia sul sito internet della CIFO, sia sul sito internet delle riviste d'agricole, culture protette e terre vita, sia nei vari output che seguiranno questo evento a cura di noi delle d'agricole. Allora, che cosa sono i biostimolanti, come funzionano, da quali sostanze sono composte, ci dirà tutto il professor Antonio Ferrante dell'Università di Milano. Prego professore. Grazie, grazie per la presentazione e ringrazio per avermi dato questa opportunità di parlare, di essere insieme a voi questa sera, anche se virtualmente purtroppo ancora avevo un impegno e purtroppo non sono riuscito a liberarmi. Parleremo dei biostimolanti, vediamo un po' questa classe di mezzi tecnici, come vengono utilizzati, quali sono le peculiarità, quali sono i vantaggi, quali sono ancora i fattori critici che devono essere studiati. Andiamo, presento, metto in condivisione la presentazione, vediamo se si vede. Perfetto, si vede benissimo. Bene, allora parliamo un po' di questi biostimolanti, cosa sono e come funzionano e cosa fanno. I biostimolanti sempre di più si sono affermati, si stanno affermando per cercare di migliorare la sostenibilità economica ed ambientale dei sistemi culturali. Sono prodotti che possono avere un'origine da estrazione di materia organica, oppure possono essere microorganismi, che applicati alla pianta o al suolo danno dei benefici e migliorano le performance della pianta. contengono diversi composti bioattivi, ne conosciamo solo in parte, questo può essere un limite, perché non abbiamo ancora gli strumenti per cercare di avere una caratterizzazione piena di tutto quello che c'è all'interno di un biostimolante. Ma questo, diciamo, è anche un vantaggio, perché ci permette anche di studiare l'associazione tra diversi composti e l'azione sinergica e anche antagonista che possono avere sulle piante. Se andiamo a vedere un po' la classificazione che è stata presentata da Dujardin, vediamo che i composti biostimolanti possono essere diversi, alcuni di origine organica e anche di inorganica, ma mi soffermerò in modo particolare su gli estratti di alche, di spese vegetali e idrolizzati proteici e composti contenenti azoto. L'importante è che quando parliamo di biostimolanti, sono prodotti che vanno ad aiutare la pianta, a migliorare la pianta nell'assorbimento degli elementi nutritivi, ma non hanno una funzione nutrizionale diretta. La presenza di eventuali elementi fertilizzanti deve essere tale che non soddisfa l'esigenza della cultura, ma è la frazione organica che dà un'azione biostimolante di utilizzo delle risorse disponibili. Così come ad esempio la presenza di alcuni ormoni vegetali sono quelli di origine ottenuti dall'estrazione della materia prima, ma non sono aggiunti ad esempio, non ci sono fitoregolatori e anche a livello di concentrazione agiscono in una fascia intermedia, cioè non utilizziamo i chilogrammi ad ettaro che sono per i fertilizzanti e non i concime, non utilizziamo le parti per milione che sono tipiche dei fitoregolatori. Però questi composti, attraverso la loro frazione organica diretta o indiretta, danno delle risposte in termini di crescita, di produzione, miglioramento della qualità, conferiscono toleranza agli stress, soprattutto abiotici, attraverso l'attivazione del metabolismo secondario e produzione di composti bioattivi, che sono quelli che vanno a migliorare ad esempio la capacità della pianta di contrastare alcuni eventi stressanti e permette di superare questi eventi e migliorare la produzione. Se facciamo un escurso storico su quello ad esempio che sono le alghe, che sono largamente utilizzate nel settore agricolo e non solo, le alghe sono state utilizzate in passato, nella storia, per migliorare proprio la fertilità del terreno. E troviamo negli scritti, ad esempio dall'agronomo romano Columella, nell'intera rustica, viene riportato come ad esempio l'uso delle alghe al trapianto, ad esempio del cavolo, conferisce una migliore colorazione e ne permette anche un miglior utilizzo in post-raccolta. Poi possiamo trovare degli scritti in cui vengono esaltate l'effetto benefico delle alghe sulla coltivazione e la crescita delle piante, lo troviamo nella Naturalis Historia di Plino il Vecchio, troviamo degli scritti su quello che è l'utilizzo delle alghe, ad esempio nel nord Europa, dove venivano distribuite le alghe per migliorare la fertilità dei terreni, ma la svolta e l'utilizzo delle alghe lo troviamo quando nel 1952 a Milano venne presentato un brevetto per ottenere la liquefazione delle alghe, cioè otteniamo i primi estratti a utilizzo in diversi settori, ma soprattutto in questo campo, nel settore agricolo, per la preparazione di estratti da utilizzare per migliorare, e fortificare la crescita delle piante. Come dice appunto nella figura a destra, vedete la Wasier, nulla si distrugge, nulla si crea, ma tutto si trasforma, e questa trasformazione da solito a liquido ha permesso un'ampia applicazione, la cui ha dato origine poi a un'ampia diffusione e utilizzo, ad esempio, le alghe nel settore dei biostimolanti. Quando parliamo di alghe, ovviamente ce ne sono diverse che vengono utilizzate, conosciamo la più diffusa, l'ascofilum, oppure la laminaria, oppure l'econia, abbiamo diverse tipologie di alghe, ancora ci sono studi per cercare di valorizzare alcune di queste. Quelle che possiamo vedere però che hanno un'origine diversa, e la raccolta è soggetta anche a una variabilità dovuta alla stagione, per esempio se prendiamo l'ascofilum, che vive soprattutto nel nord Europa, anche questa ha una composizione, l'alga proprio che viene raccolta, una composizione diversa a seconda del periodo di raccolta, ma se la materia prima, da cui poi effettiamo l'estrazione dei biostimolanti, anche il prodotto finale cambierà, ecco perché è necessario standardizzare le matrici di partenza per avere dei prodotti sempre costanti in termini di composizione e poi di efficacia, perché uno dei problemi proprio dei biostimolanti è quello di mantenere un'efficacia costante anche al variare delle specie. Un altro gruppo importante è quello degli nitrolizzati proteici, qui possiamo avere diversi prodotti ottenuti da diverse matrici, l'obiettivo è quello di andare a produrre aminoacidi o derivati proteici con funzione biattiva nella pianta, in questo caso troviamo aminoacidi proteici e non proteici che sono in grado di stimolare diversi processi fisiologici e biochimici. Possono essere utilizzate come materiali di partenza, matrice di origine animale o vegetale. Quelle di origine animale hanno delle peculiarità, soprattutto possiamo estrarre dei prodotti, dei derivati che spesso non troviamo nella pianta o sono presenti in piccole quantità. Questo permette anche e soprattutto quelli che sono attivi di essere metabolizzati più lentamente, quindi l'azione biostimolante è più a lungo, ma possiamo avere anche degli effetti ad esempio fitotossici per alcune culture, per cui bisogna studiare molto bene la fase di estrazione, la caratterizzazione e la fase di impiego successivamente. Invece quelle di origine vegetale molto spesso possono essere ottenute direttamente dalle piante, ad esempio l'erba metica, ma anche altre matrici che possono essere sottoprodotti, ad esempio di prodotti industriali, dai legumi e quant'altro, da cui possiamo attraverso processi di idrolisi ottenere i diversi materie primi. Questa capacità di utilizzare matrice organica anche di scarto, sono in linea con quello che è il Green Deal, la possibilità di riutilizzare i rifiuti in modo armonico, quindi a soddisfare le esigenze dell'uomo, nello stesso tempo dare valore aggiunto a quello che era un prodotto di scarto, quindi andiamo nell'ambito della bioeconomia, della Green Economy e della Circular Economy, cercando di impattare il meno possibile sull'ambiente e utilizzando anche i sottoprodotti. Quando parliamo però di idrolisi, quindi abbiamo una matrice, dobbiamo rendere disponibili le parti attive della materia organica e quindi bisogna utilizzare diverse strategie. Qui l'industria ha un ruolo primario importante perché deve definire i protocolli di estrazione, possiamo avere delle azioni molto forti e altre meno invasive che portano a salvaguardare diversi composti bioattivi. Ad esempio l'idrolisi chimica attraverso acidi o alcali ha un'alterazione e degradazione molto forte ed è tutto random sulla proteina, ad esempio sui composti proteici. Invece l'idrolisi enzimatica si tratta di forbici molecolari, noi sappiamo che utilizzando diversi enzimi andiamo a tagliare le proteine dove ad esempio a noi sono di più interesse perché portano a formazione di composti bioattivi che sono più efficaci per una funzione specifica che può essere lo stress abiotico oppure per la crescita. E poi possiamo anche, siccome si tratta di enzimi, quindi gli enzimi hanno una propria temperatura ottimale di funzionamento, così come l'ambiente a livello di pH favorevole o meno, noi possiamo regolare anche l'attività di questi enzimi modificando l'ambiente in cui essi lavorano. Questo è importantissimo perché da questo otteniamo diverse frazioni di degradazione e diversi composti bioattivi. Qui vi faccio vedere semplicemente in questo grafico un possibile, ad esempio, analisi di diverse frazioni proteiche che si possono liberare. Ovviamente sono tantissime, alcune di queste sono realmente bioattive e vanno quindi a dare una risposta biologica di nostro interesse, ma nulla vieta che ci sono anche altre che possono avere un'azione antagonista, e quindi vanno ad attenuare l'effetto biologico. Ecco perché lo studio è quello di cercare di si estrarre, poi caratterizzare, in alcuni casi si può anche cercare di purificare, però ovviamente bisogna poi tutto essere opportunamente valutato anche in termini di costi e di efficacia. Quindi dalla materia prima abbiamo l'estrazione industriale, perché dalla materia prima che poi deve essere valutata agroecoronomicamente. Quando parliamo di valutazione agronomica a livello di sperimentazione, la prima cosa che deve essere fatta è valutare il prodotto nell'ambiente di utilizzo. Cioè devo vedere se in un campo, per una determinata cultura, mi dà una risposta significativa. Perché se non funziona in un campo, è vero che possiamo poi annullare alcuni fattori, ma noi dobbiamo essere in grado di riprodurre l'efficacia del prodotto in condizioni reali. Se funziona in campo, allora possiamo portare quella piante, e trattarla in un ambiente protetto, come può essere una serra o camera di crescita, per cercare di annullare gli effetti di interferenza e capire la modalità di azione di quel biostimolante, o di quel complesso di composti biattivi presenti, attraverso analisi della fisiologia della cultura, attraverso analisi di biochimica metabolomica e trascrittomica della pianta. Qui possiamo vedere uno schema di tutto il processo di produzione del biostimolante. Abbiamo una fase industriale molto importante, si parte da una materia prima, può essere una pianta, un'alga o un sottoprodotto industriale, poi c'è la fase di trasformazione e di estrazione, quindi i protocolli industriali devono essere ottimizzati a fine di ottenere i composti di nostro interesse, che funzionano in quella pianta e ci permettono di aumentare la resa oppure aumentare la tolleranza a uno stress. E poi viene effettuata la valutazione agronomica. A livello agronomico possiamo vedere se abbiamo un effetto di crescita, migliorando la resa e la qualità, oppure un aumento di una tolleranza verso uno stress abiotico. E poi successivamente fare una valutazione economica di tutti i processi, sia a livello industriale sia a livello agronomico di efficacia. Quindi sicuramente è importantissimo a livello industriale andare a vedere quali sono i processi da ottimizzare dalle materie prime, l'idrolisi, la valutazione agronomica, le applicazioni ad esempio sulle culture. Quelle di origine vegetale ovviamente hanno composti che sono parte delle piante, quindi le piante li possono utilizzare per attivare alcune vie metaboliche di interesse, ma essendo presenti nella pianta abbiamo anche i meccanismi che possono degradare e ridurre quei terminati composti e quindi annullarne l'effetto. Quelle di origine animale invece possono avere degli effetti più di lunga durata perché non essendo presenti nella pianta non vengono metabolizzati o metabolizzati meno. Questo è un esempio del metabolismo primario e secondario di una pianta. Ovviamente se la pianta attiva un metabolismo ad esempio primario, noi lo possiamo vedere attraverso il monitoraggio della clorofilla, dell'attività fotosintetica, del livello di zuccheri accumulati o presenti oppure un livello di accumulo di metaboliti secondari come possono essere l'attivazione di un enzima chiave, la fenilanalina ammonioliasi, oppure tutti i composti derivati che sono antiossidanti come fenoli e anticianni che permettono di ridurre ad esempio le specie reattive dell'ossigeno nella pianta. Alcuni di questi composti, facciamo un esempio, l'acido plutammico che è un amminoacido che è coinvolto nella biosintesi delle clorofille ma questo permette un aumento dell'efficienza d'uso della radiazione e quindi migliora anche l'efficacia nell'utilizzo delle risorse, soprattutto dell'azoto, ma possiamo avere anche un coinvolgimento diretto in quello che è la biosintesi della prolina che sappiamo che è un mercatore a quanto riguarda lo stress idrico e salino. Quando noi diamo un trattamento a una pianta biostimolante ovviamente andiamo a perturbare tutto quello che è la fisiologia e la biochimica della pianta, per cui non possiamo focalizzarci solo, esclusivamente, su un dettaglio ma bisogna vedere l'equilibrio, questo è il caso degli ormoni, se non interferire su uno di questi andiamo a creare un equilibrio complessivo in tutta la pianta che va poi studiato e caratterizzato per capirne le risposte a livello fisiologico e biochimico. In questa slide mette in evidenza come, ad esempio, il biostimolante funziona se si trovano le condizioni potenziali di mettere in evidenza la sua efficacia. Quindi se noi utilizziamo un biostimolante in condizioni di scarsa disponibilità, ad esempio questo è un floating system, scarsa disponibilità di elementi nutritivi, vediamo che la pianta trattata aumenta la biomassa radicale, aumenta la parte aerea, cerca di utilizzare il più possibile gli elementi disponibili, anche se in condizioni subottimali. Se invece si trovano le condizioni già di elevata disponibilità, vediamo che gli effetti sono minori e quindi l'obiettivo è quello di ridurre gli input utilizzando i biostimolanti per cercare di aumentare il più possibile l'efficacia di questo prodotto per migliorare l'efficienza d'uso delle risorse e dei nutrienti. Qui possiamo vedere come i biostimolanti in una condizione subottimali e di elementi nutritivi ha migliorato la qualità della parte aerea in termini di cumulo di clorofilla e biomassa, aumentando soprattutto l'apparato radicale che serve esclusivamente ad esplorare o un maggior volume di soluzione nutritiva o un maggior volume di suolo per cercare di assorbire più nutrienti. C'è un effetto dose che va opportunamente valutato perché oltre un certo limite possiamo avere anche un effetto negativo, cioè riduzione dell'effetto biologico. Qui possiamo vedere il contenuto di clorofilla. Un effetto positivo lo possiamo vedere anche sul stress idrico. Lo stress idrico è che i biostimolanti possono aumentare i contenuti in composti biattivi, in particolare osmoliti che aumentano l'assorbimento dell'acqua, migliorando l'attività fotosintetica, aumentando alcuni composti come prolina e zuccheri, migliorando la qualità della produzione con composto intussitano. Questo è importante, è il momento di applicazione per gli stress perché se non lo appliciamo troppo presto il prodotto può essere metabolizzato e non dà una risposta efficace. Se lo applichiamo nel momento giusto e quando arriva lo stress la pianta può utilizzare e avere un effetto massimo e con una notevole capacità di contrasto e riduzione dell'effetto dello stress stesso. Possono essere applicati per via radicale oppure per via aerea con diversi benefici per la crescita e la qualità delle produzioni. Quali sono, ad esempio, alcuni punti che bisogna ancora cercare di studiare? Soprattutto quindi la matrice di partenza, standardizzare il processo industriale di estrazione, mantenere quindi dei composti che danno risposte fisiologiche certe e avere una sperimentazione legata anche alle modalità di applicazione e ai tempi di applicazione in funzione soprattutto di quanto si verificano gli stress. Grazie per la vostra attenzione. Grazie. Scusate se... No, anzi, ci scusiamo noi per avere fatto fretta ma dobbiamo dare lo spazio a cinque relazioni ma tutti questi contenuti verranno messi a disposizione grazie al professor Ferrante dell'Università di Milano. Ora passiamo a un altro professore noto anche per essere un autore ed agricole Michele Sellitto dell'Università di Timisoara in Romania. Come migliorare il rapporto suolo-pianta grazie ai microrganismi? Anche al professor Sellitto chiedo di rimanere all'interno dei 15 minuti. Certo, sicuramente. Grazie per l'invito, per questa opportunità di condividere con voi un tema così importante che è legato al mondo dei microrganismi e complimenti anche al professore per il tema trattato così bene per quanto riguarda i biostimolanti. In effetti con questa mia piccola introduzione, questa mia piccola presentazione colleghiamo il mondo dei biostimolanti con quello dei microrganismi con un concetto abbastanza innovativo, molto innovativo possiamo dire in cui il mondo dei prebiotici, quindi biostimolanti, sostanze che danno una rigenerazione ai suoli con sostanze probiotiche, quindi con i microrganismi, con la possibilità in effetti di introdurre vita nei nostri suoli. Quindi quando si parla di microrganismi in effetti non si può non parlare di suolo e all'interno del suolo abbiamo una quantità di vita enorme, esistono in bibliografia una quantità enorme di statistiche in quanti microrganismi sono presenti in un grammo di suolo, giusto per avere un'idea della complessità di cui stiamo parlando. Spesso mi piace fare questo paragone in cui la complessità dei nostri suoli legata un po' all'attività dei microrganismi può essere paragonata un po' alla complessità dell'universo in cui possiamo porci la domanda del tipo ma esistono più stelle nell'universo o microrganismi nel suolo? Diciamo che un po' ce la giochiamo e possiamo dire che in effetti questa grande quantità di vita rappresentata sicuramente in modo particolare dai microrganismi rappresenta un indice che oggi noi tutti dobbiamo avere a che fare e che dobbiamo considerare anche il più piccolo agricoltore o il più grande imprenditore agricolo che è la biodiversità. La biodiversità che è oggi l'elemento più importante e che ci permette in qualche modo anche di avere una visione diversa anche un po' più innovativa del tema suolo e oggi la necessità è quella di dover gestire le nostre risorse superficiali terrestre quindi il suolo sicuramente in un modo migliore e dobbiamo partire da un paradigma totalmente diverso da quello che abbiamo sicuramente approcciato negli ultimi 30 anni e che il suolo non è fatto solamente da un mix di argilla, sabbia e limo io poi vengo anche dalla scienza del suolo, dalla pedologia ma è qualcosa di più e possiamo dire è una riserva genetica rappresentata dai microrganismi a disposizione delle nostre piante. Giusto per introdurre il concetto di microbioma che in effetti è legato al mondo dei microrganismi possiamo dire e definire un po' il microbioma del suolo come una serie di popolazioni di microrganismi caratteristiche di suoli o perlomeno anche possiamo dire di zone o di microcosmi all'interno del suolo in effetti all'interno del suolo, vedete questa bella slide dove ritroviamo un po' una zolla di un suolo ben strutturata a cui all'interno in effetti ritroviamo tante microzolle e quindi tante micro nicchie ecologiche a cui all'interno i nostri microbiomi si possono differenziare logicamente più un suolo ha una biodiversità spiccata quindi molto varia e sicuramente ha una maggiore vitalità quindi il concetto di microbioma, di probiotici all'interno del suolo è associata a una fertilità maggiore e quindi anche la gestione su questo magari si potrebbe fare anche solo un incontro a parte come in effetti la fertilità dei nostri suoli la possiamo gestire dobbiamo gestirla non solo considerando la componente chimica e fisica che in qualche modo ci danno una sola parte della visione della fertilità dei suoli ma sostanzialmente dobbiamo e possiamo farlo oggi giocare, gestire, studiare anche quella che è la biodiversità dei nostri suoli cioè la componente microbiologica nello specifico dove avvengono maggior parte degli eventi tra microorganismi e pianta avvengono a livello della rizosfera ma non solo e in effetti buona parte dei microorganismi interagiscono proprio in questa zona in questa zona delle radici che noi chiamiamo rizosfera possiamo definirla dal punto di vista accademico di solito è riferita a quei due o tre millimetri che è molto diacente alla radice ma una visione un po' più moderna sicuramente la rizosfera è una zona di influenza cioè una zona in cui la radice influenza il microbioma e lo porta a sé cioè lo utilizza io dico spesso che se c'è un posto nel suolo dove c'è una grande attività una grande vita perché immaginiamo il suolo come un posto non eccessivamente abbastanza noioso ma se c'è un posto allegro dove si può andare all'interno del suolo sicuramente questa è la rizosfera dove ritroviamo buona parte dei nostri microorganismi quali sono le relazioni un po' ritorniamo un po' al tema che possiamo sfruttare all'interno di queste relazioni per migliorare la performance delle nostre culture perché questo è importante in orticoltura e sono i rapporti endofetici e simbionti cioè i microorganismi realizzano queste relazioni particolari con la pianta in modo tale da creare di dare delle funzionalità in più alle nostre piante e questo è un po' il caso dei funghi microrizzici ma come vedremo un po' più avanti tra qualche istante un altro rapporto importante possiamo definirlo anche comunicativo tra microorganismi e piante è il rapporto endofitico cioè buona parte di questi microorganismi hanno la capacità di entrare all'interno delle piante senza creare rapporti simbiontici ma creare delle relazioni intime in cui le piante usufruiscono di queste relazioni dal punto di vista, ad esempio, della biostimolazione ritorniamo un po' anche al tema con cui abbiamo iniziato è un po' il tema generale di questo convegno questo miniconvegno che ci sono proprio i biostimolanti e i microorganismi cioè il microbioma ha proprio un'attività biostimolante vediamo qui in queste slide giusto alcuni rapporti comunicativi possiamo dire relazioni tra microorganismi e pianta come alcuni microorganismi senza entrare nel dettaglio entrano all'interno della pianta e addirittura aumentano alcune funzionalità della pianta aumentano alcune funzionalità della pianta i microorganismi in orticoltura un po' in agricoltura in generale oggi il focus, per quanto riguarda la mia relazione è sicuramente legata al mondo dell'orticoltura possiamo utilizzare i microorganismi sia dalla semina, dal trapianto quindi possiamo seguire buona parte del ciclo produttivo di una cultura fino al pre-raccolta addirittura fino al post-raccolta sempre in un, possiamo dire, dal punto di vista tecnico anche in relazione e in modo sinergico con i biostimolanti durante tutto il ciclo produttivo delle nostre culture praticamente tutte le ortive si avvantaggiano oggigiorno dell'utilizzo dei microorganismi sia sicuramente per migliorare quella che è l'attività radicale parliamo di tutte le ortive in pieno campo e in serra ma anche per quanto riguarda il biocontrollo cioè ridurre quelle che sono le patologie dell'apparato radicale, dell'apparato fogliare io in questo focus facciamo riferimento a due microbiomi possiamo dire, due microorganismi uno è il tricoderma in particolare a cui sono particolarmente affezionato perché dal punto di vista operativo è estremamente importante sicuramente il tricoderma sperellum di cui anche il ceppo di 34 che sta dando risultati estremamente importanti e vediamo che come questo questo microorganismo che è caratterizzato da una accentuata attività di parassidismo potremmo anche chiamarlo iperparassidismo in cui in effetti va a cercarsi la preda e riesce a ridurre quella che è la presenza di patogeni nel suolo allo stesso tempo ha un effetto secondario di biostimolante sulle piante e poi non voglio fare un focus veramente veloce su quello che è un altro microorganismo estremamente importante che viene utilizzato oggi in orticoltura che è l'apoconia clamidosporia che è un fungo che noi utilizziamo per il biocontrollo dei nematodi brevemente sottolineo e ne ho profitto visto che siamo in tanti collegati oggi in rete che i nematodi non è che sono il male assoluto in agricoltura una parte dei nematodi sicuramente hanno un'importanza perché comunque determinano degli effetti estremamente negativi sulla nostra cultura ma la presenza dei nematodi nel suolo nella loro massima variabilità rappresentano anche un indice di biodiversità quindi noi dobbiamo biocontrollare gestire solamente i nematodi patogeni e lo possiamo fare utilizzando l'apoconia clamidospora questo microrganismo che ha la capacità di crescere all'interno del suolo è un microrganismo rizosferico che va a catturare in qualche modo quelli che sono i nematodi patogeni in particolare i melatogene e i cisticoli d'erodea ad esempio andando anche a disattivare le uva vorrei solamente indicare che questi microrganismi tra cui l'apoconia e il trigoderma sono anche i microrganismi endofitici cioè hanno la capacità di entrare nella pianta e instaurare questo particolare intimo rapporto con le piante e determinano questi effetti diciamo tra virgolette biostimolanti io ne approfitto solamente per dire che riguardo l'utilizzo dei biostimolanti e dei microrganismi sicuramente il futuro io mi occupo di questo tema da tantissimo tempo anche dal punto di vista divulgativo e scientifico ma il futuro è proprio l'utilizzo combinato consapevole e scientifico dei biostimolanti insieme ai microrganismi e vi ringrazio davvero per questa opportunità grazie perfetto perfetto grazie anche al secondo professore il professor Vincenzo Michele Sellitto dell'Università di Timisoara ora passiamo da non vorrei dire dalla scienza alla tecnica ma entriamo un po' più ecco nell'operatività pratica grazie a due tecnici CIFO che ora verranno a parlare il primo è Mirko D'Angelo che parlerà dei vantaggi dell'uso dei biostimolanti al trapianto o alla semina prego buonasera a tutti allora la cosa più importante grazie innanzitutto per gli spunti per come introdurre anche i relativi prodotti che su cui andrò a parlare la cosa più importante per chi fa orticoltura è avere comunque sia la base di partenza ottima spendere soltanto poche parole su quello che è il discorso delle piantine le piantine cosa devono avere se devo fare un trapianto e non la semina allora devono avere un apparato radicale ben sviluppato e ben strutturato deve avere invece una parte aerea molto regolare non filata deve essere gestita molto bene la pianta nei vivai l'altra cosa importante deve resistere molto bene alle manipolazioni durante esempio quelli che sono i trapianti meccanici o manuali e in più in generale la pianta deve presentare un ottimo stato fizzosanitario la cosa importante è che la piantina ideale deve avere una taglia compatta e contenuta ma non sempre è così a volte ci sono anche altre piante che hanno bisogno di una filatura più importante questo dipende sempre dal tipo di pianta che vada a considerare altra cosa molto importante è che la pianta non deve subire shock durante il fenomeno di crescita e quindi non deve esserci delle crescite rallentate o programmate portiamo delle esperienze fatto su cavolo broccolo ok su un vivaio in potete vedere di lato qual è la varietà che è il pernulli la cosa importante è una cosa si può far sparire su giù la riga ecco meglio lassù che giù grazie per quanto riguarda si è fatta l'applicazione di un biostimolante in questo caso in due applicazioni e lo vedremo subito dopo l'unica cosa che non mi va non mi va avanti ecco è stato fatto l'applicazione di due applicazioni successivamente alla fase di schiusura dell'epicotile del seme e quindi c'era davanti a un non trattato a un competitor un prodotto competitor e invece al nostro prodotto cifo come vediamo subito la parte radicale è completamente diversa tant'è vero che abbiamo sfruttato al meglio quei giorni che separano dalla fase di semina alla fase di commercializzazione del plateau abbiamo sfruttato molto bene quelli che sono i fenomeni di crescita dal punto di vista della pianta quindi in questo caso introduciamo un prodotto che è il radicifo L24 che è il prodotto che abbiamo applicato nel vivaio di prima e in questo caso andiamo a parlare di che cos'è allora innanzitutto è un prodotto che contiene all'interno l'alga macrocistis una nostra alga particolare che grazie al professore anche prima possiamo dire che viene raccolta in un brevissimo periodo dell'anno e in quel breve periodo dell'anno viene fatta la produzione dell'intera annata quindi effettivamente abbiamo un prodotto costante durante tutto il ciclo di produzione la cosa più importante di questa alga è che ha una quantità di osmoliti che aumentano quello che è la resistenza ai vari tipi di stress anche per quelli che riguardano gli stress termici in particolare ha diversi tipi di vantaggi agronomici in questo caso aumenta quello che è l'apparato radicale migliora quello che è la disponibilità dei alimenti nutritivi c'è la riduzione delle fallanze post trapianto migliora quello che è lo sviluppo vegeto produttivo totale quindi incrementa la massa radicale ma non sviluppa molto eccessivamente la parte aerea quindi la sviluppa in maniera molto armoniosa altra cosa supporta l'attività fotosintetica quindi è un particolare prodotto che stimola la pianta a lavorare con gradualità quali sono i meccanismi di azione all'interno noi abbiamo aminoacidi di origine naturale vegetale in questo caso quindi abbiamo degli acidi umici e fulvici e in più abbiamo gli estratti di alga altra caratteristica importante è questa cioè qui è stata fatta una prova dove la quantità totale di prodotto distribuito è la stessa durante l'arco del tempo però il timing quindi la frazione con cui è stata data dato il prodotto è diversa cioè nella rdc08 quindi è stata fatta una soluzione allo 08% e sono stati fatti 5 interventi nella rdc1.5% sono stati fatti 3 interventi nell'rdc2% sono stati fatti due interventi come vedete e qua c'è il testimone non trattato come vedete la massa radicale è nettamente aumentata a favore esempio sulle basse dosi ma ripetute costantemente piuttosto che avere alte dosi fatte di raro quindi in questo caso il prodotto si adatta meglio per fare più interventi a basse dosi altra cosa importante è quello dell'importanza dell'apparato radicale è una cosa su cui credo molto sul fatto che innanzitutto ha diverse funzioni ma un'altra funzione particolare come ha aggiunto prima il professor Sellitto è quella dei processi simbiosi perché non bisogna più considerare la pianta e suolo come a sé stati ma considerare anche il terzo elemento che è quello del microbiome quindi in questo caso noi dobbiamo soltanto rivolgere l'attenzione a far sviluppare un ottimo apparato radicale e ad evitare quello che è lo stress di post trapianto delle piante orticole appena essa in questo caso esempio c'è un campo di pomodoro subito dopo sono stati fatti dei trattamenti e in questo caso è stato fatto tre giorni dopo anche il diserbo di post emergenza in questo caso è stato applicato anche un altro prodotto per evitare lo stress da diserbo post emergenza contro il solano omnigra in questo caso vediamo su questa slide come applicare il prodotto anche in confronto ai competitor cioè per la crescita dell'apparato radicale in questo caso c'è il testimone non trattato c'è un'applicazione del prodotto che è al trapianto della pianta in questo caso è la lattuga che si presta molto bene a questi discorsi anche perché ha un ciclo vegetativo abbastanza corto c'è lo stesso prodotto applicato però a una concentrazione diversa e poi ci sono quattro competitor in questo caso possiamo vedere che lo standard quindi a grammi due di questo prodotto che stiamo per presentare ha avuto un ottimo riscontro nel senso che in questo caso con questo prodotto noi dobbiamo fare poche applicazioni ripetute al massimo due massimo tre volte e quindi non come in quell'altro caso applicare il prodotto in maniera costante per tutto il ciclo vegetativo in questo caso parliamo del blocchelle che è un prebiotico e ha la sua caratteristica il bloc synergy che in questo caso contiene la pomconium clamidiosporia che è stata prima elencata poco fa altra caratteristica in questo prodotto ci sono particolari estratti che in questo caso di macrocissi integrifolia c'è una tecnologia teco che ritroviamo anche in altri prodotti in un'altra gamma di prodotti che noi abbiamo e in questo caso come abbiamo detto funge da prebiotico quindi in questo caso l'effetto del prodotto è triplice perché abbiamo un'azione diretta sullo sviluppo radicale un'azione per la disponibilità continua e costante degli elementi nutritivi per la pianta quindi andando a massimizzare quelle che sono gli effetti delle fertilizzazioni e non le perdite dovuto anche ad essi e in più l'azione prebiotica per andare a stimolare il mio microbiomo in questo caso esempio abbiamo l'applicazione del su peperone dove nelle file laterali è stato applicato il prodotto nelle file centrali no quindi sono stati fatti due trattamenti e come si può vedere la taglia è completamente diversa nelle file esterne rispetto alle file centrali altra cosa qua siamo su carciofo è stato fatto un'unica applicazione e questa è la foto 18 giorni dopo il trattamento quindi c'è una parte trattata e la parte non trattata qui bisogna dire che si era anche in presenza in terreno molto salino quindi a stress salino abbastanza elevato qui siamo su pomodoro silegino giù in Sicilia come vediamo abbiamo un ottimo spunto della pianta e dopo la cimatura la pianta è partita con taglia regolare e quindi in maniera molto armonica e non filando quindi questa è un'altra caratteristica importante di avere un apparato radicale ben strutturato altra caratteristica dobbiamo andare però da quando l'abbiamo trapiantato post trapianto eccetera dobbiamo andare nella fase produttiva nella fase produttiva altra cosa importante per redigere un piano di fertilizzazione bisogna conoscere diversi elementi tra cui non si può prescindere dall'utilizzo delle analisi del terreno della stagionalità della cultura in cui è stato piantato fa bisogno della cultura la tecnica culturale e anche le perdite cioè la percentuale di efficienza dei fertilizzanti utilizzati quindi in questo caso andiamo a introdurre un'altra tematica che è quella dei nostri fertilizzanti di punta che è la linea TEC cosa hanno di caratteristica che sono materie prime senza sodio e plorio hanno una reazione acida in acqua quindi hanno un basso tenore di pH sono tutti caratterizzati dall'avere dei micro elementi in base anche ai diversi titoli hanno un'altissima solubilità anche a fermo quindi senza miscelazione dell'acqua e in più abbiamo la tecnologia TECO che sono i nostri terpeni quindi la tecnologia terpenic compound che migliora quello che è l'effetto del fertilizzante questi sono i nostri titoli che poi rivedremo alla fine nella tabella riassuntiva ma cosa hanno qual è il meccanismo d'azione dei terpeni uno innanzitutto hanno un'azione complessante nei confronti di tutti gli elementi messi in miscela quindi azoto fosforo potassio calcio magnesio zolfo e quant'altro hanno un'azione complessante quindi non riescono ad esserci perdite dovute a diverse interazioni nel suolo altra cosa grazie a questa azione complessante abbiamo una disponibilità prolungata durante tutto il ciclo vegetativo abbiamo un'azione fitostimolante diretta perché i terpeni stimolano comunque sia la crescita dei peli radicali e abbiamo un'azione carrier di essi in quale trasportano elementi chimici abbastanza particolari tra cui il calcio esempio che è un ottimo elemento di cui parlerà poi successivamente il mio collega che serve per stimolare quello che è una ottima radicazione e quindi l'emissione dei peli radicali adsorbenti quindi che riesce a trasportare l'elemento calcio all'interno anche nei tessuti e quindi attraverso la via axilematica portarli negli organi in alta ad alta attività fotosintetica quindi per esempio questo è un fertilizzante tradizionale cosa succede? che quando noi lo iniettiamo nella nostra canalina parte di esso nel tempo subisce anche dei fenomeni di percolazione retrogradazione e quant'altro e una parte viene assorbita invece nella tecnologia teco i terpeni vanno anche a solubilizzare quelli che sono i prodotti dati in precedenza quindi questi prodotti come ben si nota in questo caso devono essere inseriti in un piano nutrizionale in cui sono previste anche le basi le cosiddette basi per sfruttare al meglio anche quelle fertilizzazioni precedenti o successive a quello che sto facendo quindi grazie a questo noi andiamo ad aumentare quello che è la risposta vegetativa della pianta come vediamo qui abbiamo dei prodotti tutti i prodotti altra cosa importante è l'EC quindi l'elettroconducibilità del prodotto in acqua come si comportano? abbiamo delle C anche ad elevati titoli in potassio molto bassi questo è proprio grazie anche alla tecnologia terpenica che noi abbiamo all'interno grazie a tutti per l'attenzione benissimo interessantissima anche la relazione del primo tecnico cifo ossia Mirko D'Angelo e ora mentre si prepara a parlare un secondo importante tecnico cifo Massimo Andreotti ne approfitto per ricordare una cosa che avete già tutti letto nella locandina che la partecipazione a questo webinar è valida come riconoscimento di crediti formativi professionali per iscritti al collegio per i integrari all'ordine degli agronomi e gli agrotecnici tutti i dettagli sono sulla locandina e chiaramente bisogna stare collegati sino al termine dei lavori che sarà intorno alle 18.30 se tutto va bene tra le 18.15 e le 18.30 daremo spazio anche ad alcune delle domande del pubblico pubblico numerosissimo siamo intorno ai 950 iscritti prego Massimo Andreotti che parlerà di consistenza conservazione e shelf life degli ortaggi e come i biostimolanti possono andare in questa direzione buonasera a tutti innanzitutto lasciatemi ringraziare quelli che sono tutti oggi i partecipanti e questo è un numero estremamente importante questo vuol dire che abbiamo centrato gli argomenti questo ci fa molto piacere ma io soprattutto volevo anche ringraziare le tante persone che hanno reso e hanno promozionato questo incontro quindi che hanno divulgato questa cosa grazie veramente la scelta del del titolo e quantomeno dell'argomento sapete che quando parliamo di orticoltura è difficile scegliere un argomento preciso tutto questo però c'è un qualcosa che sta modificando direi a maniera abbastanza rapida e ci piace quindi fare uno scenario anche di quello che è un po' il nostro mercato di come anche il consumatore sta cambiando le proprietudini quindi cerchiamo di capire un po' queste esigenze di mercato che soprattutto durante la pandemia ci ha scoperto molto consumatori c'è stato un grosso incremento di consumo di orticole e guarda caso è sempre cercato quelle che sono l'ottica del pezzatura importanti la colorazione la consistenza e tutto questo poi ha portato i bairi più importanti soprattutto della GDO a cercare sempre dei prodotti diciamo di lunga conservazione quindi hanno sempre chiesto poi agli agricoltori di alzare l'asticella della qualità tutto questo ha portato quindi a un modo di vedere cioè di migliorare la consistenza la conservazione e la shelf life del prodotto quindi è evidente che tutto questo viene fatto ovviamente seguendo delle buone pratiche agronomiche a partire dalla scelta delle varietà a partire dalla gestione della delle risorse idriche dei fertilizzanti e ovviamente una buona difesa della cultura ma è altrettanto vero che ci sono degli elementi che possono in un certo senso proprio essere centrali a questo tipo di esigenza uno fra tutti il calcio calcio se vogliamo è un elemento un po' bistrattato nei nostri piani di concimazione perché sappiamo che nei nostri terreni ce n'è in abbondanza soprattutto nei terreni alcalini invece risulta estremamente importante nella funzionalità della pianta perché ha diverse funzioni innanzitutto diciamo partecipa a quella che è la divisione cellulare all'estensione cellulare e soprattutto con il calcio che viene accumulato nei vacuoli vediamo che questo va a formare proprio nelle prime fasi di divisione cellulare quelle che sono il calcio pectato cioè che poi è quello responsabile dell'elasticità dei tessuti soprattutto quando pensate piove non piove c'è il secco e tutto il resto le cellule si dilatano e si restringono e questo crea poi quei fenomeni di rottura di lesione e tutto quanto che ovviamente creano delle difficoltà e quantomeno delle problematiche nella cultura depreciando poi ovviamente il frutto e questo ovviamente viene a esaltare quelle che sono poi la conservazione dei nostri frutti e la diciamo la diciamo la shelf life del prodotto pensate anche bene con il calcio visto che andiamo a spessire i tessuti andiamo poi anche a migliorare quelle che sono tutte le manipolazioni di questi prodotti pensate quanto quante manipolazioni subiscono questi sia a partire dall'agricoltore dall'azienda agricola per arrivare sulle nostre tavole quindi capite che avere già una buona dose di questo elemento senz'altro ci dà la possibilità di diciamo migliorare tutte queste caratteristiche come dicevo il calcio è sempre stato un prodotto un po' così visto in maniera non sempre importante tant'è che poi viene classificato come un meso elemento cioè come quegli elementi insieme a magnesio azolfo che sono visti come secondari nell'ottica della nutrizione qui ho portato una tabella dove mette in evidenza la quantità di calcio che le culture asportano a livello di chilogrammi per ettaro e vi ho portato anche ovviamente quello che è un discorso di magnesio perché i due elementi viaggiano sempre insieme in sinergia per contrastare poi il discorso del potassio perché uno squilibrio di questi elementi crea poi delle difficoltà di assorbimento degli due elementi ma vedete come certe culture come esempio il melone 180 kg per ettaro parliamo di un pomodoro ad industria a 3,30 o la stessa pomodoro ad amessa addirittura a 5,50 cioè stiamo parlando di un elemento veramente importante e al quale ovviamente bisogna dedicare attenzione infatti si è visto che nel tempo ricorrendo con certe concimazioni e con certe situazioni abbiamo enormemente migliorato e dato una risposta al mercato pronti a questo tipo di discorse una carenza vi ho portato alcuni esempi di carenze che sono diciamo quelle più frequenti fra tutti il marciume epicale del pomodoro e come vedete la carenza si manifesta proprio nella lontananza nel punto più più lontano del frutto proprio perché lì c'è una scarsa concentrazione del calcio poi abbiamo le chiazze ruginose della patata o adesso qui è esaltato questa foto però ci sono 20 delle chiazze diciamo delle zone necrotiche soprattutto nel ciclo estivo dove proprio si mette nell'evidenza il fenomeno della diciamo della carenza di calcio e sulle zucchine abbiamo degli ingialimenti diciamo fogliari e sia ben chiaro che quando stiamo in evidenza di questi sintomi vuol dire che già molto abbiamo perso vuol dire che già ci predisponiamo a un raccolto che di fatto non sarà di qualità massima non sarà di produzione massima ma noi oggi spinti anche da un mercato sempre più competitivo dobbiamo sempre avere tutti questi diciamo messaggi tutte queste situazioni sotto controllo per ottenere dal nostro terreno dal nostro ettaro di terra il massimo diciamo della 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 produzione quindi cerchiamo di conoscere un po' meglio questo questo elemento questo calcio nel terreno allora innanzitutto il calcio è presente sotto forma di carbonati o di solfati uno su tutti il solfato di calcio che è il gesso è presente soprattutto nei terreni alcalini per lo più sotto forma poco solubile e invece nei terreni acidi è per lo più assente come si può integrare il discorso del calcio ovviamente ci sono dei prodotti che sono a base di calcio per esempio ricordo le fosforiti che cioè tutti i suoi derivati quindi per fosfato il triplo 1846 il nitrato di calcio che forse è uno degli prodotti più facili da impiegare quello più impiegato ma anche qui bisogna fare molta attenzione perché eccessi o quantomeno una gestione di questo elemento di questo prodotto può portare anche a delle problematiche proprio legate al calcio perché il problema non è tanto il calcio ma è l'azoto che contiene tra l'altro in una forma facilmente assimilabile perché spingendo la parte vegetativa sappiamo che il calcio che viene assorbito dalle radici e bere via esilematica va nei germogli più giovani questo richiama molto il germoglio giovane quindi il frutto soprattutto gli articoli a frutto non riesce a intercettare il calcio con problemi che si possono creare nella come posso dire nella qualità poi del frutto poi abbiamo le calcio le vecchie storie Thomas che ovviamente adesso è cambiato il procedimento industriale per la produzione dell'alluminio e quindi queste non ci sono più ma erano apportavano gran calcio soprattutto una serie di microelementi molto importanti per arricchire il terreno il gesso e la stessa acqua acqua ricca di calcare ovviamente anche questa porta del calcio quindi anche le nostre irrigazioni possono essere vettori di calcio però bisogna sempre fare molta attenzione perché dobbiamo poi ricordare come il calcio si muove nella pianta abbiamo detto che viene assorbito ma e viene vicolato per lo più per via exilematica quindi vuol dire che dalle parti vecchie difficilmente va nelle parti più giovani viene influenzato ovviamente dall'umidità e dalla temperatura guarda caso umidità bassa e temperatura alta penso che veniamo fuori da un'estate caratterizzata da queste situazioni chi non ha gestito bene questa cosa sa bene delle problematiche che può aver incontrato e soprattutto si viene a creare una competizione con potassio calcio e magnesio che qui dobbiamo gestire equilibrando proprio il discorso delle concimazioni quindi è evidente che io posso intervenire nell'ottica del ciclo culturale aiutando la pianta con un intervento fogliare e come ricordava il professor Ferrante io devo poi fare una giusta scelta sia del prodotto quindi trovare dei prodotti che sono efficaci che abbiano una certa funzionalità ma è strategico anche la scelta dell'intervento del periodo di intervento e qui apro una piccola parentesi perché inizialmente quando si è iniziato circa forse vent'anni fa o poco più a fare queste applicazioni per via fogliare si ricorreva e si pensava di utilizzare il calcio come passatemi termine una situazione zootecnica cioè di finissaggio verso la fine ma poi si è visto che invece da varie prove e tutto il resto come ricordavo prima è più importante intervenire presto per formare il calcio pectato che quello ce lo troviamo proprio nella struttura struttura che quindi vuol dire mi favorisce la manipolazione diciamo del mio prodotto e anche mi dà la possibilità di migliorare il peso specifico a parità di volume quindi di fatto stiamo aumentando le produzioni e questo non è non è da poco cosa proponiamo come CIFO CIFO è da alcuni anni che ha inserito sul mercato un prodotto biostimolante a base di calcio e magnesio ovviamente abbiamo visto che l'importanza dei due elementi insieme perché fanno sinergia insieme ma soprattutto come ricordava anche il mio collega D'Angelo all'interno del prodotto abbiamo inserito questa questi aminoacidi di algali che di derivazione di macrocistis che apportano tutta una serie di elementi importanti per favorire l'assimilazione del calcio ma anche la traslocazione ecco che allora questo prodotto ci dà la possibilità anche di poter gestire il calcio che viene trasferito laddove serve anche per via floematica cioè riesce ad andare tranquillamente al suo posto e tutto il resto come funziona la differenza un competito praticamente agiscono per contatto mentre la differenza che c'è con i nostri prodotti come vedete vengono e c'è il trattamento ma poi all'interno della pianta che viene trasferito con la linfa proprio anche da un punto di vista anche per via floematica come ricordavo e quando distribuiamo un calcio sangrino questo anche riporta anche delle azioni biostimolanti antistress per tutta la durata in funzione proprio anche delle caratteristiche dovuto della presenza di queste sostanze come le leggete c'è vitamina E vitamina D laminarine e quant'altro che vanno proprio ad aiutare la pianta a superare certi momenti di stress e di situazioni qual è il segreto dell'intervento? bene è uno solo intervenire da subito presto aiutare la pianta secondare la pianta nell'accrescimento perché abbiamo visto che più facciamo presto gli interventi più riusciamo a contribuire a migliorare la struttura della nostra pianta e tutto il resto vi ho portato due esempi ne abbiamo tanti di prodotti di esperienza a base di calcio qui vediamo del radicchio dove è stato raccolto a novembre conservato in fricoconservazione per 60 giorni senza farlo congelare a una temperatura tra 0 e 1 grado vedete come la parte aziendale sulla sinistra ha presentato un 15% di scarto in più rispetto al testimone trattato appunto con i nostri prodotti e qui invece vi ho portato un'altra esperienza tra l'altro sempre fatto col calcio di green in aggiunta a un prodotto di futura commercializzazione di prossima commercializzazione proprio per favorire la safe life dove si vede chiaramente che anche in questo caso questa lattuga vedete dopo 21 giorni di conservazione la parte trattata era presentava era molto più croccante si presentava meglio mentre la parte non trattata presentava già dei marciumi e tutto il resto quindi capite l'importanza proprio di fare questi interventi di gestire queste cose e ovviamente per migliorare i nostri raccolti e le nostre qualità grazie perfetto grazie grazie a Massimo Andreotti tecnico cifo ora dai professori universitari ai tecnici una terza fonte di informazione che noi proporremo in questo in questo webinar sono gli orticoltori no adesso c'è prima il primo orticoltore che interviene sarebbe tramite un video che ci ha che ci ha consegnato Cristina Bellussi della azienda tenuta i laghetti di Bergamo che coltiva grandi superfici di quarta gamma bio quindi con una grande esperienza anche nell'uso dei biostimolanti abbiamo un video di tre minuti e mezzo che prego la regia di trasmettere prego oggi ci troviamo nell'azienda agricola agrituristica tenuti i laghetti di Bellussi Roberto io sono Cristina Bellussi e da qualche anno mi occupo della produzione e della gestione dei due nuclei aziendali abbiamo un totale di 134 tunnel adibiti alla produzione di ortaggi biologici utilizziamo prodotti cipo da tanti anni su tutte le culture valeriana insalata rucola e spinaci a seconda delle esigenze abbiamo iniziato a usare i concimi organici e i biostimolanti perché ci sono stati consigliati in quanto prodotti validi per i problemi riscontrati nella nostra azienda i principali vantaggi che abbiamo ottenuto utilizzando questi prodotti sulle nostre culture riguardano l'uniformità di crescita e lo sviluppo delle piante la migliore qualità del raccolto e l'incremento delle rese siamo soddisfatti anche dal punto di vista economico il rapporto qualità prezzo è ottimo visto i risultati ottenuti per questo motivo abbiamo consigliato i prodotti cipo anche ad altri agricoltori in questo caso specifico in base all'analisi del terreno e per quanto riguarda anche l'analisi fogliare abbiamo trovato un giusto compromesso tra la sostanza organica da portare e il giusto grado di mineralizzazione di esso quindi abbiamo utilizzato in pretrapianto il nostro prodotto top 714 che è un prodotto pellettato biostimolante che ha il forte potere di attivare quello che è la flora batterica e microbica del terreno e in più abbiamo utilizzato un nostro prodotto bloc L subito dopo la semina quindi con le piogge in aspersione che è un prodotto che aumenta quello che è l'attività di degradazione batterica andando a nutrire quello che è la flora batterica del suolo quindi andiamo ad apportare un prebiotico sul nostro suolo e sulla nostra cultura altra cosa importante di queste culture di quarta gamma e qui siamo in una serra di insalate è quello di avere un controllo delle malattie abbastanza importanti in questo caso specifico nel bergamasco una delle cause che si annoverano molto di più sul discorso fogliare sono quello che riguarda del malbianco quindi il discorso di oidio oltre quindi essendo una cultura bio ci sono pochi preparati ma questi propri preparati bisogna farli lavorare al meglio quindi allo zolfo noi gli abbiamo accoppiato la nostra propolis cifo che è un prodotto da propoli da base di estrazione oleosa che ha migliorato quello che è la persistenza dello zolfo sulla foglia quindi andando a far espletare l'azione dello zolfo per un tempo più lungo e costante altro discorso importante sempre per quanto riguarda questa località sono gli sbalzi termici che in estate ahimè in questa zona sono abbastanza importanti e questo lo si aiuta a fare con la nostra alga macrocistis quindi col macis beach 28 accoppiato nei trattamenti fogliari questo proprio per evitare che la foglia possa perdere quello che è il suo turgore cellulare quindi possa anche appassirsi subito dopo il taglio grazie al nostro supporto tecnico continuo e costante abbiamo già risolto diverse problematiche e visto e considerato che siamo in una fabbrica a cielo aperto anche se sotto serra tutte le altre problematiche che si vengono a verificare le affronteremo passo passo benissimo questa è una delle è la prima delle due esperienze pratiche in orticoltura di cui vi abbiamo dato conto una seconda interessantissima importantissima esperienza pratica è quella attuata nelle serie orticole della comunità di San Patrignano se ne parla il tecnico responsabile di queste coltivazioni Andrea Tozzo prego buonasera a tutti ringrazio anche la Cifo per avermi invitato qua stasera e allora come vedete dagli slide noi praticamente le nostre macroculture sono radicchio cicoria cavolo cappuccio fragole peperoni e datterini i prodotti che noi abbiamo usato prevalentemente abbiamo iniziato da subito dai primi trappianti con i datterini andando a mettere nelle fertirigazioni il T34 che ci ha tolto moltissimi problemi di marciume radicale insieme a durante tutto il ciclo della cultura abbiamo aggiunto anche i TEC 15-10-30 che ci ha dato molta ha fatto crescere una pianta molto equilibrata devo dire e con ottimi risultati e abbiamo avuto purtroppo dei problemi sul laterino per causa basse temperature che ci sono state durante i primi trappianti di fatti le file esterne delle serre si erano bloccate abbiamo apportato del blockel che nell'arco di pochissimo tempo ha fatto il suo lavoro portando comunque la pianta a ripartire e a svilupparsi molto bene infatti se vedete anche dalle foto di queste slide qui avevamo all'inizio i rachidi molto corti e quindi con una poca produzione invece andando avanti con l'aiuto anche del macis e il calcio di sgring ci siamo resi conto che comunque il rachide è diventato molto più lungo molto più produttivo quindi qua ci si vede molto il periodo di raccolta dove siamo riusciti a riprendere molto di quello stacco che avevamo avuto però vorrei tornare indietro alla prima slide se riesci a tornare indietro perché radicchio di chioggia e via le guardiamo meglio una dopo l'altra perché mi sembra molto interessato intanto questi campi orticoli della comunità di San Patteniano in quale comune si trovano? a Rimini nelle campagne di Rimini quindi con anche un terreno un po' salino sì anche molto argilloso tanto argilloso quanti ettri abbiamo più o meno lavoriamo cinque ettari a radicchio no 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 di radicchio ortiva in pieno campo tutto ortiva in pieno campo sono cinque cinque ettari e mezzo sei ettari quindi le ortive in pieno campo sono radicchio radicchio cicoria cavolo cappuccio e che altro radicchio cicoria cavolo cappuccio la fragola la consideriamo un orticola perché essendo una coltivazione ribazia passiamo alla serricoltura le serre ecco quanti metri quadrati di serre avete? tra tutto avremo quasi due ettari di serre due ettari di serre e le coltivazioni sono peperone pomodoro da mensa peperone pomodoro da mensa e datterino pomodoro da mensa esterno però datterino diciamo che la nostra cultura principale è il datterino insieme al peperone e le frangole noi abbiamo da quando abbiamo passato da quando abbiamo cambiato ci siamo appoggiati alla cifo abbiamo avuto dei grandissimi risultati sia sulla parte fuori campo che sotto serra torniamo a citare i biostimolanti cifo che voi usate abbiamo visto che sul pomodoro contro le patologie fungine del pomodoro utilizzate anche il T34 e poi altri iniziamo ad usarlo subito all'inizio dopo il trappianto e negli ultimi anni che lo stiamo usando non abbiamo più avuto nessun tipo di problema fungineo altri biostimolanti? altri biostimolanti allora abbiamo ci sono stati purtroppo essendo che dove siamo noi abbastanza c'è un clima un po' particolare perché ci sono degli sbalzi molto alti sia i primi trappianti quindi in primavera che poi dopo abbiamo avuto dei problemi sul racchede del datterino perché praticamente il datterino all'inizio veniva molto corto quindi abbiamo aggiunto il maciset che effettivamente dopo vari vedendo i palchi successivi aumentava di gran lunga allungava molto il racchede del datterino lo differenziava meglio benissimo ma non siete microponati benissimo grazie ad Andrea Tozzo responsabile tecnico dell'orticoltura di San Patrignano ora come promesso riusciamo a dedicare qualche minuto alle domande presentate tramite i vari meccanismi telematici che abbiamo a disposizione presentati dal pubblico una domanda è per il professor Ferrante che dovrebbe essere in collegamento professor Ferrante ecco lo vediamo uno dei partecipanti al webinar ha posto una domanda non so un po' specialistica un po' in ogni caso che richiede una risposta scientifica parla degli estratti algali e la domanda è la seguente ma considerando che la maggior parte degli estratti algali in commercio sono tenuti per idrolisi e quindi sono tenuti con processi piuttosto aggressivi che rompono alcuni componenti della biomassa gli ormoni dei tessuti algali riescono a conservare la loro attività la loro bioattività nel prodotto finale io non so rispondere ma come dicevo prima il contenuto ormonale del biostimolante deve essere comunque limitato l'attività biologica non deve essere ascrivibile alla concentrazione degli ormoni presenti piuttosto anche il processo di estrazione può determinare alcune alterazioni ma il biostimolante in realtà non deve essere un prodotto che conferisce una determinata risposta per la concentrazione dell'ormone presente ma piuttosto perché induce nella nella pianta un'attivazione fisiologica che porta alla biosintesi degli ormoni che servono alla pianta in quel momento perché è la pianta che in quel momento cerca di deviare l'attivazione metabolica in funzione delle esigenze quindi anche se la concentrazione spesso sono molto basse per cui non è dovuta alla presenza del biostimolante anche perché il biostimolante che viene prodotto poi viene utilizzato a concentrazione di utilizzo e quindi viene diluito notevolmente e quindi l'applicazione reale poi la quantità che arriva è minima in realtà è l'insieme dei composti biattivi che vanno attivare nella pianta alcune vie biosintetiche che portano poi alla produzione endogena dell'ormone che è quello che dà la risposta di cui la pianta ha bisogno come dicevo quando noi abbiamo un composto che deriva dall'alga o da una pianta la pianta stessa che viene trattata dalla cultura ha sia gli strumenti i mezzi per utilizzare quei composti che sono estratte e presenti nel biostimolante per attivare le vene metaboliche ma anche la possibilità di eliminare quelli di cui la pianta non ha bisogno quindi se noi abbiamo un biostimolante che funziona benissimo contro lo stress idrico salino e lo diamo a una pianta che non ha una necessità di avere tale tolleranza per esempio in condizioni normali senza esposizione allo stress la pianta distrugge quei composti biattivi che andrebbero ad attivare vie metaboliche che non interessano ricordiamoci che quanto la pianta devia dalla normale fisiologia che porta alla produzione ma per aumentare la tolleranza attiva alla biosintesi di ormoni o di metaboliti secondari è un costo per la pianta dal punto di vista energetico la pianta deve attivare dei processi metabolici a costo energetico per cui si parla del fitness cost cioè il costo per stare bene però tutta quell'energia che noi conferiamo nella resistenza nella tolleranza a uno stress viene meno poi alla fine della produzione ma il vantaggio dei biostimolanti qual è? che questa condizione di far parte del mondo vegetale della fisiologia della pianta l'attivazione è transiente cioè non è che noi attiviamo caramia metabolica che è permanente ma quando la pianta non ha più bisogno riconverte la propria energia verso la fase di produzione e quindi supera il periodo di stress e abbiamo una produzione penso che è simile a quella di una pianta non stressata non stressata un'altra domanda per il professor Ferrante poi passiamo agli altri esperti che sono qui presenti questi prodotti possono essere utilizzati in agricoltura biologica o biodinamica? la maggior parte di questi prodotti possono essere utilizzati in agricoltura biologica ci possono essere delle limitazioni ad esempio alcuni prodotti di origine da sottoprodotti di origine animale sono vietati in alcune regioni ad esempio viene limitata l'applicazione in agricoltura biologica però la maggior parte diciamo sono utilizzate tranne per alcune di origine animale ci sono delle limitazioni ma non ovunque quindi bisogna vedere un po' anche i disciplinari di produzione regionale grazie grazie professor Ferrante ora un paio di domande un po' entomologiche che rivolgerei al professor Sellitto nella coltivazione del pomodoro l'uso dei biostimolanti può avere una prevenzione contro i parassiti appartenenti all'ordine degli insetti per esempio la tuta assoluta i biostimolanti microbici sicuramente prodotti di natura microbiologica sicuramente possono dare un contributo sostanziale al biocontrollo di molti insetti fitofagi tra cui anche la tuta assoluta sicuramente possiamo fare riferimento a microrganismi come la boveria bassiana e il metallizium che possono dare questo contributo poi logicamente entrando in quella che riguarda la sfera delle sostanze biostimolanti sicuramente alcune sostanze vegetali di natura vegetale possono avere un effetto di aiuto di allontanamento da parte di questi insetti io direi comunque che per il biocontrollo degli insetti fitofagi sulle nostre culture in particolare il tema della tuta assoluta sicuramente la combinazione biostimolanti classici e biostimolanti microbici trovano la loro massima espressione possiamo fare una ricetta abbastanza pratica nel dire di miscelare per esempio della zeolite micronizzata con della boere abbassiana e data diciamo a distanza di sette giorni come applicazione dal punto di vista pratico c'è un altro orticoltore che ci scrive tramite chat che chiede se ha dei problemi di ferretti sono utili contro i ferretti allora i ferretti sono diciamo un problema estremamente importante perché i ferretti sono estremamente veloci si muovono velocemente all'interno del suolo e sono estremamente aggressivi sicuramente per quanto riguarda il mondo dei microrganismi io su questo vi posso dare la mia esperienza personale ma su culture come ad esempio la patata ma tutte le culture che possono essere in qualche modo il mais e riuscire ad applicare al suolo il fungo entomofago più importante sicuramente più utilizzato che la bora bassiana dato sotto forma di polverulenta ma anche liquida può aiutare tantissimo per allontanarli proprio i ferretti per cui consiglio vivamente al nostro diciamo ascoltatore di utilizzare proprio questa tecnologia grazie passerei il microfono al tecnico Cifo accanto a lei perché abbiamo un'altra domanda alla quale probabilmente è difficile rispondere io mi sono informato prima non saprei rispondere a livello legislativo i biostimolanti come sono inquadrati in questo momento allora ecco allora a livello legislativo i biostimolanti al momento sono inquadrati sul mondo la legge 75 2010 come fertilizzanti quindi all'interno di questa legge vengono inquadrati la categoria e la dicitura in etichetta sono completamente diversificate rispetto ai fertilizzanti classici quindi possiamo avere esempio la cosa più lampante acidi umici ad effetto biostimolanti oppure acidi umici inquadrati come fertilizzanti l'etichetta commerciale che ne deriva è completamente diversa l'uno dall'altro ci sono delle variazioni a tema previste già dal prossimo anno quindi a partire dalla metà del prossimo anno dove verrà ad essere ricatalogato un po' tutto il settore del biostimolante quindi effettivamente ne vedremo delle belle quello sì grazie Mirko D'Angelo della Cifo ora passerei il microfono a Massimo Andreotti sempre tecnico Cifo c'è un ascoltatore uno che ci segue più che altro uno spettatore che ci segue che chiede se si conoscono gli effetti a lungo termine dell'utilizzo dei biostimolanti prima entrambi i professori hanno detto che gli effetti sono forse a breve termine un po' non dico istantanei ma quasi ma ci sono effetti a lungo termine sulle culture sui terreni dell'utilizzo dei biostimolanti direi che innanzitutto stiamo parlando di piante poliennali quindi non certo possiamo parlare di culture orticole visto che sono effetti a lungo tempo diciamo che oggi si possa ricorrere dei biostimolanti per migliorare il discorso del terreno e se possiamo includerli questi dei biostimolanti in questa categoria e allora quindi andiamo a migliorare le caratteristiche del terreno ma è evidente che se io faccio un'applicazione fogliare questa richiama molto quello che è il ciclo culturale della cultura quindi è evidente che non possiamo avere un beneficio a lungo termine ma quello che è importante è trovare il sistema per ripetere e quindi metterlo in quella che sono nelle condizioni o quantomeno nel protocollo di coltivazione l'uso di questi prodotti grazie sempre dalla nostra frequentatissima chat più di 900 stanno seguendo il nostro webinar un'altra domanda per il professor Ferrante che continuiamo a ringraziare per la disponibilità per il professor Ferrante i percorsi biochimici interessati dall'attività del biostimolante possono essere gli stessi di quelli interessati da induttori di resistenza sì alcune cose possono essere condivise come si diceva prima quando parliamo per esempio della via biosintetica quando parliamo del fenilpropanoid sappiamo che ci sono anche dei metaboliti secondari che possono avere un'azione anche sugli stress di tipo biotico ovviamente poi a seconda dell'efficacia e a seconda poi della disponibilità e la possibilità di poter registrare il prodotto uno sceglie se come prodotto per il biocontrollo o come biostimolante ovviamente i biostimolanti da punto di vista legislativo sono quelli che agiscono sugli stress di tipo abiotico quegli altri invece se agiscono contro gli stress di tipo biotico insetti malattie bisogna registrarli come agenti di biocontrollo però le vie biosintetiche possono essere anche le stesse poi i composti che vengono concentrati e accumulati possono avere anche una funzione di tipo di controllo anche contro delle malattie e d'altro quindi la via generale di attivazione può essere la stessa poi i metaboliti che si accumulano possono essere diversi non a caso quando parliamo di attivazione di fenipropanoidi in realtà si tratta di mille più composti che noi non tutti li conosciamo per cui a volte abbiamo la composizione e concentrazione di diversi fenoli o composti fenolici che possono avere una duplication funzione sia contro gli stress abiotici e biotici quindi è possibile avere una via biosintetica in comune grazie grazie professor Ferrante ora una domanda abbiamo fatto abbiamo avuto domande molto particolari molto precise ora abbiamo anche delle domande di carattere molto generale che toccano argomenti che abbiamo già toccato come la difesa fitosanitaria e quindi io darei il microfono al professor Sellitto perché la domanda è la seguente ma possiamo abbiamo già parlato di ferretti di tutto assoluto abbiamo parlato di tante altre cose ma in generale all'interno della grande categoria della difesa fitosanitaria i biostimolanti in quali settori di questo macro argomento si rivelano più utili allora per quanto riguarda il tema del biocontrollo delle patologie magari non riferite necessariamente al biocontrollo dei fitofagi e magari alle cosiddette soulborn disease cioè le malattie che attaccano l'apparato radicale ma anche quello foliare per lo meno per quanto riguarda il mio settore che riguarda parte anche del mondo dei biostimolanti ma il mondo microbiologico il mondo dei microorganismi io direi che sicuramente il tricoterma il tricoterma la fa diciamo tra virgolette tra padrone un po' è il principe dei microorganismi che difende le nostre culture in modo attivo in modo preventivo e anche in modo diciamo curativo all'interno del suo nel senso che buona parte di quelle che sono le patologie che attaccano l'apparato radicale pizium la rizoctonia il fusarium e i colleghi qui ne sanno tantissimo perché si confrontano giornalmente con queste difficoltà noi possiamo realmente ridurle in modo drastico e anche continuativo nel futuro all'interno dei nostri soli applicando in questo particolare momento sicuramente il tricoterma asperellum T34 che è il ceppo riferito a questo tricoterma che è estremamente vorace essendo avendo un'attività iperparassita molto intensa per cui va a cercarsi i patogeni nel suolo in modo quasi quasi come se fosse per capire un serial killer girando all'interno di questi soli e andando a catturare e accibandosi di questi di questi funghi patogeni per cui rispondere tornando un po' in quale categoria rientrano sicuramente i microrganismi quindi la parte microbiologica del mondo dei biostimolanti al riguardo ci dà un grandissimo aiuto durante tutto il ciclo delle nostre culture Torniamo Professor Sellit un'ultima domanda per lei facciamo parlare anche altri sempre sul microbioma del suolo qua mi chiedono dalla chat ci sono categorie ci sono esempi di biostimolanti composti da microrganismi tra virgolette dormienti che magari si possono riattivare dopo un po' in caso di necessità allora la parte che è estremamente contenta perché la domanda parte con la parola microbioma e noi dovremmo parlare in agricoltura sempre di più di microbioma quindi microrganismi microbioma magari per ricreare un microbioma ottimale che si era perso compromesso come no la stanchezza dei suoli sostanzialmente è legata a questo tema tante problematiche la morire del kiwi il collassamento delle piante sostanzialmente spesso è legato proprio a questa mancanza della componente microbiologica da solo rappresentata dalla microbioma nello specifico vorrei dire l'ascoltatore e un po' tutti quelli che ci ascoltano che i microrganismi o perlomeno i cosiddetti biopreparati a base di microrganismi sono sostanzialmente formati da spore o endospore vive dormienti quindi sono tutte sotto questa forma e la cosa importante è che quando noi le applichiamo ai suoli queste spore si attivano come ad esempio il trigoderma T34 o la poconia clamidiosporia che è un fungo nematofogo per controllare i nematofodi i fitopatogeni noi applichiamo queste spore che si attivano per cui vorrei rassicurare l'ascoltatore che se utilizza i prodotti a base microbiologica sono tutti sostanzialmente realizzati da questi microbiomi sintetici tra virgolette costituite da spore vive dormienti grazie passerei il microfono al tecnico cifo Massimo Andreotti perché c'è una domanda di netto carattere tecnico i biostimolanti si possono impiegare in miscela con prodotti di sintesi senza che perdano efficacia? allora io ringrazio questa domanda perché durante la mia relazione ho dimenticato di dire una cosa importante proprio del calcisangrin c'è la possibilità di poter essere miscelato con i normali trattamenti ovviamente con tutti incluso rame e sotto qualsiasi forma questo ovviamente è stato fatto dal nostro centro ricerca proprio perché non possiamo aggravare i costi di produzione facendo un passaggio unicamente per questi prodotti ma tutti i nostri prodotti i nostri biostimolanti sono fatti proprio per essere messi in miscela con i normali trattamenti si essi fungicidi si essi insetticidi e compagnia bella quindi questo è il discorso il motivo della progettazione è stata proprio pensata per fare questo tipo di obiettivo bene avremo mille altre domande che recupereremo tramite i nostri vari social ma sono arrivate le 18.30 è il termine canonico del nostro webinar un webinar organizzato da Cifo in collaborazione con noi dell'Ede Agricole rimanete in contatto con i social con i siti internet di queste due realtà Cifo ed Agricole in particolare all'interno dell'Ede Agricole le riviste tra le vite e culture protette perché ci saranno numerosi output numerosi articoli o interventi sempre per divulgare i contenuti di cui si è parlato oggi molto probabilmente pubblicheremo anche le presentazioni che abbiamo proiettato per cui moltiplicheremo l'audience di questo nostro evento di oggi buonasera a tutti e grazie per aver partecipato Grazie a tutti